Grazie Presidente, parto con quello sul referendum. Rimango basita dai tentativi dei sostenitori della B di smontare l'esito del referendum attaccandosi a numeri e percentuali. Questo referendum si è svolto secondo le regole che lo prevedono e lo si accetta così com'è. A chi non piace che non ci sia un quorum, faccio una proposta per cambiarlo questo referendum, invece di delegittimarlo e di mettere in bocca alle persone che non hanno votato parole che non hanno mai espresso. Dire che l'83% della cittadinanza ha scelto di mantenere invariato l'attuale assetto della scuola di competenza comunale è sbagliato. L'83% della cittadinanza ha scelto di non esprimersi. Per quale motivo? Lo sa solo chi non è andato a votare. La B è stata sostenuta da tutta la classe dirigente di questa città e non solo. Ci sono mossi gli stati maggiori di PD, PDL, Lega, Scelta Civica, CISL, Curia, Prodi, Renzi, Ministri, Ascom, Industria e CNA. Nonostante lo spiegamento di forze, i cittadini hanno scelto la proposta di un piccolo comitato di cittadini. Cosa significa questo? Significa che vi è un ampio scollamento tra chi governa e chi decide per questa città, chi ci vive e chi in questa città ci abita. Abbiamo assistito nuovamente al fallimento della politica. Chi ci governa non vive sullo stesso pianeta di chi è governato. Caro signor sindaco, lei nel 2011 è stato votato da 106.000 persone. Ora ne ha 50.000 che non condividono la sua posizione in merito al finanziamento comunale alle scuole materne paritarie e private. Non è obbligato ad andare avanti per forza su questa strada. Ascolti la sua città. Ascolti la sua città.